eccoci su sicb... sic... silkbook abbiamo delle vibe pessime possiamo dirlo? si si anche perchè start ok reset test ok settings ok legal che cazzo è? e give up che cazzo è? give up per uscire e scappare e arrendersi e legal che cos'è? io lo premo previ un po' ah ok va bene va bene non siamo morti dopo aver fatto... vediamo i settings ah ci si muove allora e si interagisce col mouse fine la risoluzione ok vogliamo mettere alla risoluzione il mio schermo? fine ok anche se mi sembra una roba lo... insomma quello che è vabbè io maxerei tutto anzi no perchè non sappiamo com'è ottimizzato il gioco wasteland vuoi abbassare un pochino l'audio poco poco vai in audio? no no vai in audio qui in gioco se no mi... mi... poco poco tipo 80 ok va bene grazie prego non cambia niente e allora apposto così va tanto si sente non cambia niente io mi sembra molto alto io ho veramente un po' paura lo abbasso un attimo nel mixer non troppo no perchè... una perseghella una perseghella così arriva al jumpscare ci va... ci va diventare biondi che ne dite così? ok vai perfetto vai prego wasteland ok start sta calibrando il test calibrando? ah la grafica è potente ragazzi c'ho due tasti A o B mi posso girare a 360 gradi e quello è dietro ci sono delle persone che sono a un tavolo credo che quelle siano mani no forse sono altre sedi di test c'è un proiettore dai ci puoi andare da loro secondo te? molto bella la profondità di campo no non mi posso muovere ok niente ragazzi va bene inizierà con delle domande scemissime e poi... ti piace il rosso? ti preferisci il colore rosso? peraltro è un vero falso quindi già è una domanda un po' strevezza eh però si è vero che mi piace il rosso che cos'è questo secondo voi? un teamer si è vero che abbiamo il rosso rosso? scusami sto a a a a b a a b a a b i i a a a devi farlo sui tasti forse? si 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 a a a b a a b Benvenuto in una puntata di A-A-A-B-B A-A-B A-B-A-B Ma ragazzi è una roba terrorizzata Falso Sono terrorizzato Si stanno distorcendo sempre di più Ho i brividi ragazzi, scusate Che succede? Non lo so, ha toccato qualcosa Addio, è inquietantissimo, è vero Ha toccato qualcosa nel, non lo so, nel profondo Qualche vibe Silent Dilla Mi è venuta la pelle d'oca, capisci? Tud, siamo con te È un gioco, ci siamo Io ci sono Falso Ho perso Questa è una, immagino È una porta, si Mi costringe ad andare veloce, capito? Che cazzo è? Sta scendo qualcosa da sotto la No Fammi guarda, fammi guarda Vai cazzo Si Hanno parlato Ma che è? No ragazzi, non si può giocare, scusate È una scantellata che sta uscendo da sotto la porta Faccio io, IA Westland Gioca tu, Rizio Non ce la faccio, scusatemi Ma io, io mi sto cagando in mano Solo a vedere Quindi non posso, volevo parlare Allora, vai Ci sei, puoi fare? Si, si Descartierlis Descartierlis Si è sciolta Ha fatto capo e porta Devi prendere B No, non posso schiacciare B Si sta rialzando Non è giocabile Cioè mi ricorda Ma lo devi fare qualcosa, secondo me Prova a muoverti Ti giri dietro e chiedi ragazzi, ma scusate, avete capito Today Was special E qui ti mi devo girare? Ma vaffanculo, va Ma C'è una domanda, eh This is an image of a clock No No Si 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 No Si No 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 Si No 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 Per me si No No Si 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 No No Descagazzi, fatti avanti Che cazzo è sta cosa che sta facendo? E' già nel purpetiello E' già nel purpetiello Per due maragno, ecco che Va bene questo... C'è qualcuno ragazzi A A A B A A B A A B A A A A A A A B C'è qualcuno lì? Lo vedete? Si Si Andiamo avanti Quindi Andiamo avanti Madonna mia Si è un mio Un nostro amico questo Si è un nostro caro amico questo Si Assolutamente Si E' lui No No Chi è che mi respira sul collo? Ragazzi, i brividi Sì Si Sì Ma c'è la nostra fotoprofilo, ci pensi? Sapesse il ghevardo, se Ma chi è che mi respira sul collo, ragazzi? No, 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 andiamo a sapere Non mi girerò Non mi girerò No Si, ti fotto No Assolutamente no Sono troppo complesso per te Intelligenza artificiale, mi dispiace Fottiti Si Ti posso dare ragione No, non sono solo in una folla Sono solo dal punto di vista fisico Ah, eh, sti cazzi Sai a me che me ne fotte Si Si, e quindi? Io non esisto Io non ti vedo Per lei maestro Ehm, ma che me ne fotte Non mi girerò A, 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 B, B, A, A, B Sempre la stessa B A, A B Il gioco non sa che noi siamo addestrati a questo tipo di cosa Calibration complete Andiamo avanti Ah, c'è un altro tasto Prova usarlo E non fa niente Andiamo avanti Giacomo No Ah, ecco Come fai a vederlo? Scusami Eh, un po' attentativi Che dove fa? Devi spostare La X o il cerchio credo Con il pad Oddio no, con WASD ragazzi Si Ok, è più facile Ok, è più facile Che cazzo è? Non lo so Un puzzle Doble A destra Oh madonna Fai sta cazzo di Calibration Buono? Questo è Gianni il pedofilo qua, che è? Andiamo avanti per cortesia Sei boh E che devo fa? Vaffanculo Don't look down Va bene Guarda su Devi Puoi stiamo mettere la mano A, 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 B, A, A, B Si muove sempre più Fessa qua dai Non so se ti conviene Non so se ti conviene Non ce l'hai fotte niente Ok Guarda voi Forse devi riprovare perché è pallito Non vedo il pallino Non c'era pallino ragazzi Lo assicuro O c'era inoltre Non c'era pallino Non c'era pallino ragazzi No, non c'era Forse dobbiamo rifarlo Sapete? Si può darsi Si Eccolo B, B, A, A, B, A A B, A Impossibile B, A Due volte A B, B, A B, 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 B B, B B, 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 B B, 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 B B, 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 B Che sta succedendo? Ah è finita semplicemente Secondo me è diverso top meno male penso fosse una cagata dai top vai wasteland e ragazzi vabbè magari non è una roba da sturbo come penso io infatti magari questa è meglio dai c'è una luce retola che ti sto aspettando questa devo per forza andare di lì non posso fare nulla non so dove cazzo devo andare ah ecco devi seguire Mike vorrei poter zoomare che devo fare trova laggiù c'è un cadaver cosa c'è? come c'è? come c'è? come c'è? come c'è? vabbè una demo vabbè una demo secondo me è carino carino cioè c'è non lo so beh c'è un'idea dietro quanto può costare 10 euro un gioco completo così va bene cioè capito? io ho l'impressione che sia come quell'altra roba in Unreal Engine abbiamo Scream mi pare si chiamasse è vero che ti spaventa per i primi 5 minuti a morte e poi non ti fa mai più paura sì però posso dirti che a me è l'idea che mi ha spaventato